Oggi vado ad esplorare un piccolo angolo di Val Taleggio, valle Sita nel cuore delle preampie europiche, conosciuta soprattutto per la produzione del stracchino Taleggio. Il luogo di destinazione è il rifugio Gerardi, nella piana di Arben. Mi dirigo quindi a Pezzino, piccola frazione del comune di Taleggio, che raggiungo attraversando in alto una fascinante rovina. Parcheggio l'auto in località Quindicina, poco prima di Capo Fruppa, inizia così il mio cammino. La vista sugli antichi caseifici e sugli alpeggi circostanti rendono il tragitto molto gradevole. Arrivo ad un falso piano, dove l'ambiente è predominato da grandi prati. Il sentiero ora si fa molto fangoso per via della fusione nivale. Nonostante sia ancora inverno, le temperature sono piuttosto alte e la neve lascia spazio alla coltria erbosa ancora assopita. Proseguo il mio cammino e finalmente raggiungo i piani d'Alben, in cui si ha un'ampia vista su tutta la vallata. Arrivo al rifugio e mi riposo gustando un buon piatto tipico di prodotti locali. Prima di fare il ritorno, per sentirmi in piena sintonia con la natura circostante, decido di tuffarmi nella neve. E ferma il mio pa' ad alleare questa magnifica valle. E ferma il mio pa' ad alleare questa magnifica valle. Grazie a tutti. Grazie a tutti.